Le infiltrazioni della criminalità nel nostro territorio non sottovalutare il problema, anzi attivare robusti anticorpi. È il monito di Union Camere che analizza il fenomeno dell'economia illegale. Fragile e vulnerabile alle infiltrazioni mafiose. È preoccupante la fotografia dell'economia Emiliano Romagnola che esce dall'osservatorio sulla legalità realizzato dall'Union Camere regionale. Bologna e Modena le province più vulnerabili dal punto di vista economico. Ma anche altri territori come Parma, Reggio Emilia e Rimini presentano valori medio-alti sopra la media nazionale. Siamo molto preoccupati, osserva il segretario generale di Union Camere Claudio Pasini. Bisogna accendere i riflettori su questa situazione e attivare gli anticorpi. Il rapporto prende in esame anche indicatori non tradizionali, ad esempio l'indice di manovalanza, per cercare di far emergere le attività illecite sommerse e tutta quell'area grigia dove l'economia illegale stringe accordi con professionisti, imprenditori e burocrati. Un'attenzione particolare è poi dedicata alla contraffazione. A Parma e Ravenna i valori più alti, mentre sul fronte finanziario le attività illecite sono più diffuse a Rimini e Bologna. Una vera piovra insomma all'economia illegale, che distorce il mercato, svilisce il lavoro, intimidisce la libertà di impresa.